Conoscere i trend di mercato per continuare a crescere. È con questa missione che Confcommercio Veneto e il raggruppamento di imprese, servizi e sviluppo hanno organizzato il seminario Anticipare il futuro, i Deep Trend di mercato 2023-2024. Un'occasione per imprenditori provenienti da tutto il Veneto di conoscere strumenti utili a ripensare le proprie strategie di business, aumentando così la propria competitività. Per l'occasione il seminario ha avuto luogo nell'innovativa infinite area di Montebelluna e ha visto la collaborazione dell'azienda Blue Eggs. Queste lezioni servono proprio per far capire alle imprese, ma soprattutto anche all'associazione, alla vita associativa, cosa stiamo perdendo, cosa non stiamo raccogliendo del futuro, cosa non stiamo vedendo, come si sta posizionando il futuro. Laura Rolle è stata veramente molto brava a spiegarlo e le ripeteremo, le ripeteremo con forza, ma con imprenditori, imprenditori che sono i giovani, quelli che ci devono, diciamo, traghettare nel futuro, devono essere presenti e li porteremo qui per essere molto più, diciamo, in relazione tra imprese. Comprendere i modelli di consumo presenti e futuri è una delle strategie più importanti per pianificare i propri asset aziendali. Anticipare le mosse del mercato, in altre parole, può garantire un vantaggio decisivo ad imprenditori ed aziende. Per fare questo Blue Eggs, realtà internazionale da 25 anni impiegata in questi studi, ha messo a punto un particolare metodo di ricerca basato sulla decodifica dei deep trend. Questi sono i modelli di consumo che orientano il mercato a livello profondo, frutto di una puntuale strategia imprenditoriale che spazia tra strumenti e linguaggi diversi. Conoscere questi modelli, questi deep trend, consente di anticipare gli sviluppi del mercato. Nel futuro le aziende sono chiamate a una sfida importante. Esaudire e in parte anticipare i desideri in maniera semplice e immediata, ma soprattutto la più grande sfida è quella di rileggersi in una relazione con altre aziende. Quindi Plural Singularity, ad esempio, è un di trend che ci dice che saranno vincenti le aziende che entreranno in sistemi. L'altro aspetto molto molto importante è quello della future legacy. Negli ultimi anni siamo entrati in una nuova economia che ho definito economia della ricreazione e adesso le aziende, per valorizzare la propria tradizione, qui siamo in un territorio importante come tradizione, devono rileggere la propria tipicità, non più come facevano una volta, ma come l'ascito per le generazioni future. In un momento di crisi e profonda incertezza dei mercati internazionali, ogni strumento è prezioso per orientare al meglio le proprie strategie di business e Confcommercio Veneto si conferma tra i principali alleati delle imprese. La grande sfida, ad esempio, per Confcommercio potrebbe essere proprio quella di far incontrare tutto un tessuto imprenditoriale micro che lavora sul digitale con le produzioni locali reali attraverso questo nuovo modello che abbiamo previsto in cui il digitale si innesta su sistemi in real life.